Questa è la quinta edizione e mi sembra che i numeri parlino chiaro, si va sempre in un crescendo e credo tra l'altro che questo sia il futuro. Tra l'altro la creatività è giovanissima e quindi noi dobbiamo assolutamente stare al fianco di questi giovani che possono sviluppare invenzioni che poi utilizziamo anche nella vita quotidiana. Quindi assolutamente sì, Roma come laboratorio è capitale della tecnologia e dell'innovazione. Innanzitutto grazie dell'invito e benvenuti a tutti. Noi siamo chiaramente orgogliosi di ospitare questa bellissima fiera che come ci ricordava il Presidente Tagliavanti è la quinta edizione ma è cresciuta nel corso degli anni. Ecco allora io penso questo, tutti i nostri figli sono ormai chiamati nativi digitali. Quello che noi abbiamo iniziato a vedere qui da cinque anni fa e che per noi era ancora sconosciuto, dovevamo capire tutte le potenzialità del digitale. In realtà stanno invadendo la nostra vita in tutti i campi, in tutti i settori. Per cui tutto questo ci consente di fare un salto avanti importantissimo. Quello che cinque anni fa credevamo il futuro in realtà è già passato. Quello che noi possiamo dire è che il futuro è oggi e questa fiera si sta ponendo, tra l'altro è la seconda più grande al mondo dopo quella degli Stati Uniti, si sta ponendo un passo avanti rispetto a tutto e ci consente anche di capire dove andremo domani. Quindi è fondamentale essere qui, è fondamentale poter ospitare un evento come questo, sapere che in realtà unisce tantissime generazioni e unisce persone che vengono qui come curiosi, unisce aziende, unisce imprese, unisce start-up e istituzioni che vengono qui, controllano, guardano, verificano e iniziano anche ad aprire nuove porte, nuove collaborazioni. Perché poi è questo quello che le amministrazioni devono fare. mettersi a disposizione delle idee di chi vuole investire, di chi vuole innovare, di chi vuole aiutare a sviluppare il paese. Quindi noi non potevamo mancare. Grazie mille. Grazie. Grazie. Prego. Grazie mille. Grazie mille.